siamo in locaità pantano alla periferia di matera questo è il canale gradina di matera che sta per rimettersi nella gradina in ambito urbano per entrare nel parco nel suo percorso per andare a parco incontra lo suodo del depuratore di matera ecco quello che rilascia il depuratore di matera oggi sabato 13 aprile guardate il carico quantomeno di colore io immagino che sia infinante che il depuratore sta rilasciando guardate come cambia il colore dell'acqua ecco poi ci domandiamo perché nella gradina di matera nel parco ci siano cattivi odori pizza vi assicuro che l'odore è nauseabondo quella che io sto respirando è pizza di merda pura mi dispiace per la città di matera per i suoi ospiti per i suoi abitanti io sono un cittadino materano e mi vergogno di questo